Ciao a tutti sono Simone Panozzo, lo chef del ristorante La Fiamma di Breganze. Oggi faremo insieme gli spaghetti alla carbonara. Ci servono spaghetti, guanciale di maiale, uova, pecorino stagionato, pepe e olio extravergine. Adesso andrò a mettere la pasta come prima cosa. Facciamo a listarelle il nostro guanciale. Aggiungiamo l'olio extravergine. Allora, sbattiamo le uova, dove abbiamo dato la grattata di pepe e abbiamo messo un pizzico di sale. Poi noi, quando andremo a spadellare la pasta, lo faremo a poco spento. Ogni piatto li metto sopra il tuollo, l'uovo crudo. Ok. Il nostro guanciale è pronto. Aggiungiamo un po' le uova e le dovremo a spadellare. e poi mettiamo il tuo cuoco di pepe. Eccolo, questa è la carbonara. Noi andiamo a metterci anche il tuo cuoco di pepe. E poi la nostra grattata di pecorino romano stagionato. Allora, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace. Vi invito ad andare a vedere anche la nostra pagina Instagram e la pagina Facebook. Se volete vedere qualche ricetta in particolare scrivetecelo sui commenti e vi chiedo anche di iscrivervi al nostro canale YouTube. Ciao!